Una buona giornata, una buona mattinata a tutti voi cari telespettatori di FanoTV ben ritrovati sul canale 17 c'è la rassegna stampa Occhio ai giornali che comincia con il santo del giorno e lo vediamo subito con l'aiuto della grafica Oggi è San Dionigi l'Areo Pagita Il sole è sorto alle 7.08 e tramonterà alle 18.46 minuti mentre il tempo pioverà stasera, pioverà stasera su tutta la costa giornata per il resto sostanzialmente con qualche nuvola, densamenti cumuliformi nelle zone interne ma dicevo le precipitazioni ci saranno nel corso della serata poi continueranno anche domani mattina nelle prime ore con locali rovescio temporali lungo la fascia costiera, poi il tempo migliorerà giovedì avremo tempo buono, sereno, poco nuvoloso insomma la situazione sarà tranquilla per la giornata di giovedì poi un peggioramento per venerdì con condizioni di variabilità nel fine settimana Uno sguardo alla prima pagina nazionale del resto del Carlino perché non possiamo tener conto nella nostra rassegna stampa locale regionale tutto ciò che è accaduto, il massacro di Las Vegas questa è la prima pagina del resto del Carlino nazionale orrore mai visto, un massacro senza precedenti a Las Vegas un uomo bianco di 64 anni con fucili automatici spara da un grattacielo sul pubblico di un concerto 59 morti, 527 feriti l'ISIS rivendica la carneficina è un nostro soldato convertito dicono ma per l'FBI non è terrorismo si riapre la polemica sulle armi e andiamo a leggere i giornali locali allora l'edizione di Pesaro del Corriere Adriatico in primo piano un diciottenne che è stato arrestato perché spacciava davanti alla scuola il blitz di Polizia di Stato e Finanza ha arrestato uno studente del Mengaroni poi la notizia che resta in carcere il pesarese che è stato arrestato durante gli scontri al G7 è stato convalidato l'arresto a Torino il padre riesce a parlarci e poi altre notizie sempre in primo piano come lo sport, la WL è piaciuta e con Little in più andrà anche meglio mentre la pagina del Carlino di Pesaro la fotonotizia è per la burocrazia pazza l'asilo estivo, la retta trattenuta due volte i vigili vanno all'Unione buttano via centinaia di bollettari delle multe mai usate tutto questo perché hanno cambiato la polizia di Pesaro ha cambiato il logo è uno spacciatore artistico confezionava le dosi in classe blitz della polizia alla Mengaroni poi il processo si parla dello stupro a Rimini il processo a Butungo che oggi va alla sbarra il padre mentre dei due fratelli quelli minorenni dice non mi servono psicologi mi serve da mangiare non abbiamo soldi WL dopo la sconfitta pure la beffa delle multe e sotto invece la Guardia di Finanza che ha sequestrato una villa con piscina e con tanti ad un imprenditore pesarese che è un grossista un grossista di casalinghi triangolazione col titano cioè con San Marino per il grossista di casalinghi la finanza accusa ha evaso l'IVA per 3 milioni e mezzo di euro da Fano invece la notizia che è arrivata ieri pomeriggio nel tardo pomeriggio intorno ai 17 dal quartiere di Centinarola dove un bambino è caduto dalla bicicletta e si è tranciato un dito paura a Centinarola il 118 allerta all'eliambulanza per il trasporto all'ospedale regionale di Torrette di Ancona dove potrà riattaccare la falange l'equip di chirurgia ricostruttiva diretta da Michele Riccio che tra l'altro ha il suo attivo interventi coronati da successo per riattaccare intere mani tranciate quindi è un'equip di primissimo piano di altissimo livello mentre sotto la protesta di una mamma di un malato psichico che cerca un lavoro per suo figlio mentre di questo se ne era interessato anche Riccardo Borini il coordinatore dell'ambito sociale che appunto non era rimasto insensibile a questo grido di dolore di questa mamma che tra l'altro esprime un disagio comune a diverse famiglie che vivono la stessa condizione sulla pagina del resto del canino di Fano anche il caso del caso di politica e giustizia che riguarda l'assessore Marina Barniesi sul caso Barniesi oggi c'è la fondo di Luca Serfilippi dell'opposizione che dice con Aguzzi non foste così garantisti lo dice a quelli della sinistra che sono così buonisti solidali con la collega Barniese accusata secondo l'indagine aperta appunto dalla procura di Pesaro di assenteismo tutto questo buonismo dice Luca Serfilippi del centro-sinistra inizia a darmi fastidio e si domanda poi se il primo cittadino cioè il sindaco Massimo Seri sapeva di questa inchiesta e perché se sì l'ha nascosta alla città l'altra pagina di Fano del Carlino è sull'aeroporto Seri dal vice ministro la pista in cemento torna possibile una settimana cruciale per lo calo cittadino giovedì i conti verranno forse sbloccati intanto si riaprono i giochi il presidente della Camera di Commercio Alberto Drudi dice se la pista in cemento si farà noi non usciremo dal consorzio e poi arriva intanto il bando che servirà per gestire la gestione appunto dell'aeroporto la pagina di Fano del Corriere invece in primo piano le parole del vice sindaco e assessore al turismo Stefano Marcheggiani dobbiamo curare di più il centro storico il verde e gli arredi della città di Fano il vice sindaco sulle manutanzioni carenti con gli appalti esterni tutto è più difficile abbiamo fatto molto ma alcune situazioni sono davvero intollerabili poi le vongolari le vongolari che a Fano affondano nei divieti siamo sul Carlino Giardini della Coldiretti domani in missione al Ministero a Roma ha proibito pescare entro le 0,3 miglia dove si concentra tra l'altro il prodotto ieri i soci del Consorzio hanno deciso di prolungare di un mese il fermo pesca e poi sotto da Calcinelli c'è la grande festa che si prepara domenica per il barbiere da Guinness Bruno Berardi storico barbiere di Calcinelli ancora in servizio pensate a 85 anni che festeggerà il prossimo 8 ottobre 73 anni di attività e 55 di matrimonio il progetto che si realizza invece al Parco Urbano il comitato Bartolagi ricorda ora ricorda la visione del compianto fondatore Lucio Polverari che tanto si è battuto negli anni per la realizzazione di questo parco e poi sotto invece è stato condannato a 8 mesi quindi per omicidio colposo per l'incidente mortale che avvenne il 9 novembre del 2015 sulla superstrada sulla carreggiata tra Lucrezia e Bellocchi dove perse la vita Selena Cani conosciuta come Selli la 21enne nata a Fanno ma residente a Cartoceto che morì dopo due giorni per le lesioni riportate si è conclusa ieri con questo esito al Tribunale di Pesaro il giudizio abbreviato davanti al giudice di Palma ed è stato condannato appunto ad 8 mesi di reclusione per omicidio colposo ma con pena sospesa questo giovane che causò questo incidente ricorderete Selli questa ragazza di 21 anni si era fermata con l'auto in panna appunto sulla sulla strada e purtroppo rimase dentro l'auto e fu centrata in pieno da questo automobilista andiamo adesso a Cerasa torniamo sul resto del Carlino perché i pensionati di Cerasa sono contro lo smantellamento della filiale dell'unico Bancomat che hanno in paese giù le mani dalla nostra banca questo è il titolo lo sportello della ex Carifano in via Vittorio Veneto lungo la Orcianense è l'unico a Cerasa in cui vivono circa mille persone e poi da Fossombrone sindaco ora fermi i lavori alla Rems Fossombrone dopo la notizia dell'ingegnere che è indagato il comitato va alla carica la questione delicata non possiamo permetterci di fare passi falsi dice Bonci il sindaco da Urbino invece strade da Terzo Mondo la denuncia di un professore dell'Accademia le vie sono impraticabili e giù di fotografie San Pietrini sconnessi buche nell'asfalto ecco la mappa degli orrori e poi dalla Valle del Cesano l'ANAS stanzia 200 mila euro per sistemare le Cesane il sindaco Laurentino dice il primo impegno per la straordinaria manutenzione Mondolfo ha vinto il campionato di dunque sale in serie A pallone con il bracciale grande prestazione a Faenza primi davanti a Monte San Savino da Senigallia invece ragazzini presi a scuola con gli spinelli strigliati dai genitori in commissariato irruzione al campus due minorenni di 15 e 17 anni e poi un 18enne che avevano tabacco e marijuana come dire davvero tutto un mondo e paese abbiamo visto sia Pesaro Senigallia ma ovunque c'è tanta tanta roba che gira nelle scuole che non avete idea basta distributori automatici in centro botteghe e artigiani l'assessore campanile boccia la liberalizzazione c'è bisogno di deterrenza contro la micro criminalità e poi queste piantine la pinetina vedete questa pinetina qua ora mille firme sono state raccolte a Senigallia per salvarla questa pinetina dalle ruspe sono state superate le mille firme per salvare questa pinetina che si trova vicino alla stazione di Senigallia e che a quanto pare appunto dovrà essere buttata giù l'ultima pagina è quella delle marche che per chi vola e chi va a Roma spesso in aereo ormai è ufficiale all'Italia va via dall'aeroporto di Falconara di Ancona via dal Sanzio da novembre non si vola a Roma la notizia è durante l'incontro tra il consulente di Airdorica e i dipendenti sul futuro occupazionale e questa è l'ultima notizia della nostra segna stampa grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata vi ricordo che al 338 49 68 250 potete inviarci con whatsapp le vostre segnalazioni foto, video e testi per dirci appunto tutto quello che accade attorno a voi e non finiremo mai davvero di ringraziarvi per la vostra preziosissima collaborazione ci vediamo stasera alle 20 e 30 con il telegiornale e vi ricordo che domani sera dopo il telegiornale Occhio alla Notizia in questo studio c'è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci in diretta per rispondere alle vostre telefonate alle vostre richieste buona giornata